Buongiorno e bentrovate e bentrovati. Come avevo anticipato ieri, oggi c'è stato un momento importante. Il momento è stato l'approvazione di un ordine del giorno alla Camera collegato al Cura Italia, un ordine del giorno firmato da Lia Quartapelle, Asmo Palazzotto, Rossella Moroni, Paolo Lattanzio e Alessandro Fusacchia, parlamentari che sin dall'inizio ci sono stati vicini in questa battaglia sul piano straordinario sull'assistenza domiciliare che desidero ringraziare. Oltre loro hanno firmato altri 19 parlamentari, 19 deputati di varie forze politiche. Cosa dice questo ordine del giorno? Impegna il governo ad adottare fondamentalmente la nostra proposta, quella di un piano straordinario sull'assistenza domiciliare nei modi e nelle forme che conoscete. Qual è il tema in questo momento? È stata fatta questo ordine del giorno per mantenere alta la tensione, per ricordare al governo che è un tema fondamentale. Il governo dall'altra parte, come avevo anticipato, ha dato disponibilità a prendere questi provvedimenti per adottare questo piano all'interno del decreto di aprile che sarà nelle prossime ore reso noto per quanto riguarda i suoi elementi salienti. È molto importante perché, sottolinea che stiamo continuando questa battaglia, è molto importante per ricordare che è un tema fondamentale, è molto importante per far capire che è un tema ampiamente condiviso non solo da organizzazioni civiche soggette al mondo professionale, ma soprattutto dai malati che stanno attendendo a delle persone che attendono di essere curate, che stanno attendendo con ansia delle risposte su questo fronte. Quindi oggi un'altra tappa importante, ci siamo, nei prossimi giorni manteneremo altissima la tensione perché è fondamentale dare delle risposte alle persone che le stanno attendendo da troppo tempo. Quindi tornerò ad aggiornarvi nei prossimi giorni, ma volevo condividere con voi questo risultato importante. Se vi saranno novità anche nel corso del fine settimana ci risentiremo. Grazie a tutti e a lavoriamo insieme in questi giorni per far sì che questa importante battaglia venga vinta. A prestissimo.